Allora ragazzi cerchiamo di essere seri perché l'argomento di oggi lo esige, lo esige, sapete bene che Conte è già l'allenatore dell'Inter, lo sapete ragazzi, lo sapete ma se non lo sapete ve lo dico anch'io, Conte è l'allenatore dell'Inter dopo essersi trasferito per un breve periodo a Roma, sì perché è stato allenatore della Roma settimana scorsa non lo so se lo sapevate, ma dopo questo si è subito accostato il suo nome alla Juventus ed era lì per sostituire anche Allegri, ma adesso è un allenatore dell'Inter e onestamente non so se domani affiancherà Luciano Spalletti, se fungerà da vice o seppure lo scanserà del tutto, però Conte è l'allenatore dell'Inter, insieme a Malotta stanno già varando il calciomercato, è tutto vero, lo scrivono i giornali, tutto documentato, quindi Conte dopo una breve periodo a Roma, dopo essere stato accostato anche alla Juve adesso è l'allenatore dell'Inter, magari settimana prossima ci sarà un trasferimento al Milan ma al momento è il nostro allenatore e dobbiamo essere felici di questo perché è molto molto importante, ma non è finita qua, siamo solo all'inizio perché adesso saranno tutti contenti i Cardi, vola via, non resta in Italia, dopo essere sceso un po' al sud, sappiamo bene che ha giocato nel Napoli, non ha fatto presenze però è andato a Napoli perché si pensava ad uno scambio con Insigne, poi non è avvenuto nulla però c'è stato, c'è stato il contatto, c'è stato tutto, stavamo lì per farlo giocare con Napoli ma non è andato in porta, abbiamo in porto lo scambio, poi abbiamo cercato di sostituirlo con Dybala, anche lì c'eravamo andati vicino, adesso no, adesso tutti felici e sereni perché i Cardi va al Paris, ma non è finita qua perché i Cardi va al Paris, ma al Paris ci dà un grande giocatore, Neymar, l'Inter adesso può permettersi anche Neymar, questa è una notizia fantastica, questa è una notizia che stupisce, che ci rapisce perché questa veramente fa capire che possiamo acquistare tutti, tutto quello che vogliamo, per cui ragazzi è fantastico, non solo, non solo Neymar, arriverà anche Rakitic, non lo so se insieme a Rakitic poi gente come lo stesso Modric o quant'altri vogliano intraprendere e sposare la causa, però al momento il calciomercato dice questo, questo dicono i giornali e bisogna crederci, bisogna crederci, veramente importante, veramente prioritario. Ora, io non lo so se sono stato serio, se posso essere compreso o meno, però credo che per quanto noi siamo abbastanza, come si dice, babbioni, come si dice, creduloni, per quanto possiamo esserlo, per quanto possiamo veramente esserlo, ma mi spiegate come si fa passare, me lo dovete spiegare voi, come si fa passare dal dire, dal dire, che poi forse sono gli stessi giornali che dicono le stesse testate, passano dal dire che l'Inter non può sostituire Spalletti perché costa, sostituire Spalletti costa, però l'Inter nella prossima stagione può anche puntare a Neymar. mi dovete spiegare qual è il filo conduttore, perché forse mi sono perso qualcosa, forse mi sono perso qualcosa, a questo punto mi chiede, ma veramente, ma veramente, se si può passare dal dire una cazzata al spararne tutt'altra di cazzate, mi dovete spiegare a cosa servono questi giornali, cosa li compriamo a fare, cosa li compriamo a fare. Cioè siamo passati a dire che non ci possiamo permettere di silurare Spalletti al, e Don Balon lo dice, al possiamo prendere Neymar, l'Inter punta Neymar, ma stiamo scherzandoci, ma veramente, ma veramente ci dobbiamo fidare più dei giornali? Quest'anno l'Inter l'ha allenata, oltre a Spalletti, Murigno, Conte, forse per un breve periodo anche Pochettino, l'Inter l'ha allenata da tutti, salvo poi che non si fa mai nulla, non capisco. Icardi? Icardi? Veramente, Icardi, oltre a giocare nell'Inter quest'anno ha giocato nella Juventus, nel Paris, nell'Atletico Madrid, nel Napoli, non lo so, solo Almina forse non è stato accostato, Icardi, forse Almina no, però forse ci penserei anche a buttarlo Almina. Cioè, i giornali, a cosa servono? Questa è la domanda a questo punto. Cosa servono i giornali? Servono? Servono veramente. O per fare, per pulirci per quanto riguarda una questione igienica, oppure servono da cerino per il fuoco. Servono da cerino per il fuoco. O meglio, dai spediente per il fuoco. Ah, è uno schifo, io credo che sia veramente uno schifo. Ormai conviene nemmeno aggiornarsi di nulla, perché ci scrivono tante di quelle blasfemie che non ha senso. Vabbè, io ho ascoltato comunque oggi la conferenza di Spalletti e sul suo futuro è rimasto un po' un vago, però. Perché tra le tante notizie quella di Conte all'Inter sembra essere leggermente vera, anche se loro già considerano tutto fatto, tutto chiuso. Già l'allenatore dell'Inter, davvero. Come parlano i giornali, già dell'Inter. Fatto sta che lo stesso Spalletti ha cercato di fare melina come al solito, dicendo che sì, quello che è importante è che i giocatori sono concentrati e stanno cercando in tutti i costi di portare a casa l'obiettivo, che è quello di andare in Champions. Meno male. Strapagati e ultrapagati, se non si stessero allenando per centrare questo obiettivo, che è il minimo, staremmo veramente a far feste. Comunque, fatemi sapere voi quale di queste voci, quella che vi piace di più, aggiornatemi un po' sul vostro pensiero e ditemi veramente, oltre a pulirsi il sedere e all'accendere il fuoco, a cosa possono servire i giornali di oggi. Fatemelo sapere voi. Commentate, likeate, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. A Neschi. A Neschi. A Neschi. A Neschi. Grazie a tutti.